Buona domenica, oggi 8 dicembre è la festa dell'Immacolata. La frase tratta dal Vangelo di oggi che vogliamo meditare dice «Beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore». Il segreto di Maria, ciò che l'ha resa unica e santa nella storia dell'umanità, non è in cose speciali che essa ha fatto, ma nella sua fede, totalmente affidata alla parola del Signore. Quando amiamo davvero qualcuno, ascoltiamo la sua parola con un'attenzione del cuore ed una fiducia proporzionale all'amore. La passione è un sentimento spontaneo per cui ci sentiamo attratti da qualcuno. L'amore è molto di più, è uscire da se stessi per andare con tutto il cuore verso l'amato ed affidarci a lui con una gioia piena di speranza e accogliere la sua parola come un dono e desiderare di non lasciarlo più. Questo è l'amore. Così era l'amore di Maria verso Dio, così la sua fede. Per questo è giustamente l'immacolata, la tutta santa, beata colei che ha creduto all'adempimento delle parole del Signore. Buona domenica.